Il trio pastiglia nella canzone Ma Piove di Chiosso e Buscaglione. Via! Avevo appuntamento per le nove, ma piove e chi si muove? Chi aspetta in pane un po' mi commuove, ma piove ed ho le scarpe nuove. Potrebbe forse nascere un amore, un'anima gemella da sposare, ma penso con terrore che busco un affreddore e a casa preferisco restare. Avevo appuntamento per le nove, ma piove e chi si muove? L'amore esige certo queste prove, per Giove, ma guarda come piove. Mi avrebbe dato tanti tanti baci, mi avrebbe detto frasi da morire. Avrei provato sensazioni nuove, ma piove, che ci posso fare? La danza, la danza, la danza, la danza. La danza, oh, cambio! M'avrebbe dato tanti tanti baci, mi avrebbe detto frasi da morire. Avrei provato sensazioni nuove, ma piove, che ci posso fare? E' bellissima! Oh, ma no! Grazie. No, per uno che è come me, perché io... Volevo chiederti una cosa. La Tilla, agli inizi della vostra carriera, praticamente, vi ha dato una grossa mano, giusto? Guarda, tutto dipende da One for my baby. Ma va? Sì. Lui era innamoratissimo di una baby. Chi lui? Chi dei due? La Tilla. La Tilla. La sua baby lo sai qual era, no? Sì, Carla o Nilla, una delle due? Nilla. Nilla. E come baby era un po' sviluppata, ma insomma... Grazie.